Un papa muore e va in paradiso. Lì lo accoglie San Pietro, colui che giudica se un'anima merita o no il paradiso. Buongiorno, lei chi è? Sono il papa, fammi entrare. Papa, strano, lei non risulta nei nostri elenchi. Ma che scherzi? Io sono il papa, rappresento Dio in terra. Ah sì? Vado a chiedere a Dio. Ma anche Dio sembra non aver mai sentito parlare di questo papa. Così Pietro va a chiedere a Gesù. Ehi Gesù, non è che per caso conosci un certo papa? Boh, non mi dice nulla. aspetta che ci vado a parlare. Dopo mezz'ora Gesù torna ridendo come un matto. Allora, chi è? Perché ridi? chiede Pietro. Hai presente quel club di pescatori che abbiamo fondato più di duemila anni fa? Esiste ancora!